eccoci qua allora vediamo un po vediamo gli ultimi video vai The Walking Dead si 108 visualizzazioni 107 mi piace abbiamo qualcun altro non lo so 111 44 iscrizioni 366 beh buono insomma siamo agli inizi sta salendo proviamo a vedere un attimo vediamo un po i commenti però non ci sono commenti dove cazzo sono i miei cazzo di commenti neanche un commento cioè non è possibile tutti i video che ho fatto neanche un commento qua neanche un commento Tom Bride parte 2 neanche un commento neanche qua pure quando finisco le puntate mi pare che è l'oddito fatemi sapere con un commento fateci sapere cosa ne pensate commentate e fatemi sapere che ne pensate di questo fantastico gioco commentate condividete il video andate sui vari li vabbè ragazzi che dirvi magari vorrei dire che inizierò a salutare chi mi commenta come fanno alcuni youtuber faccio tipo eh tizio che voleva essere salutato ah giusto e vabbè allora ragazzi io vi saluto anche se non mi commentate in silenzio lasciate un bel like per questo video così tanto per solidarietà iscrivetevi al canale se colore del fatto facebook, twitter e instagram in descrizione ragazzi ci vediamo un nuovo fantastico ciao maffaffangulla sto scemo